Per tanti anni ho partecipato alla festa del libro ad Enna, è una festa che credo sempre che si rinnova, si sviluppa, va avanti, è convolgente per tanti bambini, tante scuole. Con tanti colleghi vengo qua a presentare i nostri libri, facciamo i nostri laboratori, facciamo tutto questo per avvicinare i bambini alla lettura, alla bellezza, all'arte e alla poesia perché in fondo è un loro diritto e noi lo facciamo per preparare i ragazzi di oggi e di domani ad un futuro migliore. Visto che il mondo si sta sviluppando molto, non come vorremmo, pieno di guerre, violenze, individualismo e tutto questo noi dobbiamo rispondere a questa cosa negativa attraverso i nostri strumenti, quello del libro e dai laboratori artistici. Così possiamo rispondere come abbiamo fatto stamattina con tanti bambini. Io ho incontrato tanti bambini in questi giorni per dargli messaggi di speranza e di pace a questi bambini. Noi dobbiamo lavorare in questo senso di... è la festa proprio coinvolgente molto per lavora e per preparare questi bambini che diventano bambini speciali che possono dare alla società qualcosa in più. Un saluto alla festa del libro e grazie di avermi invitato e so che dietro questa festa c'è tanta fatica, tanto lavoro, ma alla fine serve e serve, serve e necessario perché i bambini non dimenticheranno mai questi incontri.